E comunque quello che facciamo non serve a un cazzo Cioè un vabbè Serve magari in termini Grazie a te A me sembra che loro gli vada di farlo Di continuarlo a farlo Però è pure vero che A te te va Che facciamo? Ci attacchiamo Ci siete? Sì Grazie a tutti